Ciao a tutti e bentornati da BearStrong, finalmente mi è arrivato il Blue Ray di The War, il Pianeta delle Scimmie, appare il mio uno dei più bei film dell'anno e sto parlando del terzo capitolo di questa trilogia reboot del Pianeta delle Scimmie, che mi è piaciuto tantissimo, vi faccio vedere un po' il dietro anche, ecco qua, però per metterlo meglio a fuoco andrò a spellicolare questo Blue Ray. Ecco ragazzi, ho levato la pellicola così possiamo vedere meglio questo Blue Ray con la slipcase praticamente, abbiamo anche il dietro, dove possiamo vedere che c'è la trama, qua i contenuti, abbiamo nel primo disco il film in 3D, poi il film in 2D con i vari contenuti speciali, ok, possiamo andare ad aprire questo Blue Ray, io non l'ho preso in Steelbook perché non mi facevo impazzire, vi faccio vedere anche i bordi molto belli, guardate con i simboli e qua abbiamo invece il famoso simbolo della finestra di Cesare, vedete qui, ok, andiamo a uscire il Blue Ray da questa sovraccopertina in cartoncino, ok, ed ecco qua il Blue Ray, dietro presenta più o meno le stesse cose che abbiamo visto nel retro della sovraccopertina in cartoncino, andiamo ad aprire e abbiamo i due dischi, abbiamo quello in 3D e quello in 2D più i contenuti speciali. Ecco ragazzi, questo era un piccolo unboxing che vi volevo far guardare perché a par mio questo è uno dei film più belli di quest'anno e quindi l'ho preso in questa edizione con la slipcase e quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se voi preferite per esempio la Steelbook, mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, attivate anche la campanellina per le notifiche e vi rimando al prossimo video, ciao!